Ciao ragazzi e bentrovati su Futiciat Italia. Oggi sono in una nuova location, in macchina, perché a causa di impegni personali sono fuori, per cui non trovate né intro né nulla come immagini finali perché sono un po' improvvisato. Però era importante farmi vedere anche oggi perché ci sono tante novità. Allora, la prima di tutte è questa. È stato inserito fra i concept dei giocatori sperimentali, Falcao89 che al 99,9%, come vedete Futbin l'ha già inserito nel database, sarà la carta Europa League Moments. Purtroppo, chiaramente, dal momento in cui esce una tipologia di notizia come questa, il mondo della speculazione su Fut è ai massimi livelli. Per cui chiaramente è inutile chiedere se investire su Falcao NIF o versione UCL perché chiaramente i prezzi sono esageratamente ai patti. Come potete vedere costava, vabbè, questo già costava abbastanza. La versione 85 che adesso costa 15 e mezzo, 16 e mezzo, costava circa 17k. Adesso aspetta, andiamo a vedere l'andamento live della carta perché se no sembra che dico puttanate. In effetti dico puttanate. Perfetto. Sto dicendo una puttanata. Per cui potrebbe essere anche magari un discorso sensato farlo come investimento. Andiamo a vedere l'andamento dei prezzi delle carte 85. Considerate che sto facendo, come vedete, ragionamenti con voi per cui non ho avuto tempo di preparare nulla in merito. Gli overall 85 partono in genere dai 13-14k. Se stamattina avete seguito i miei consigli sul profilo Instagram avrete sicuramente dei lacasette che saranno probabilmente utili per un discorso di sfida creazione rosa, pagati massimo 11k circa. Potranno essere utili anche perché essendo francese e probabilmente richiedendo anche alcuni giocatori del campionato francese l'eventuale sfida di Falcao potrebbe vedersi alzare di prezzo perché è facilmente ibridabile. Mi veniva in mente una possibilità di investimento come Fabregas che però risulta essere assolutamente inutile in quanto costa 14k ed è il cap, cioè il prezzo massimo di vendita per cui non ha assolutamente senso fare un investimento in questo genere. Per quanto riguarda Falcao, ecco, io consideravo che il suo prezzo potesse essere intorno ai 12k, oggi invece è stabile sui 15k diciamo che sicuramente andando a vedere i requisiti di David Luiz ci sarà sicuramente una carta della Colombia così come ci sarà una carta del Monaco se non due o qualcuna del campionato francese. Diciamo che il prezzo non è allettante, il prezzo non è allettante quindi magari vi consiglierei di non prenderlo. Quello che si può prendere eventualmente un paio di copie è Falcao versione UCL semplicemente perché il suo prezzo difficilmente scenderà di prezzo perché gli overall 86 hanno più o meno un prezzo superiore ai 20-25k circa, come possiamo vedere a parte i primi che sono sniperate sopra i 22-23k per cui magari prendere un paio di copie di Falcao potrebbe essere non dico approfittevole però magari non si sa mai li mettano nei requisiti. Andiamo a vedere il suo prezzo live però perché poi Foodbin spesso non è aggiornato. Allora no si trova bene 26k magari io ne prendo un paio considerate questo, anzi ne prendo sì due. Allora ricordatevi questo, spesso mi capita di vedere che io faccio investimenti, vi propongo i consigli su YouTube o su Instagram e poi nel momento in cui pubblico subito dopo mi dite ah ma i prezzi non sono quelli. Allora per le carte UEFA Champions League purtroppo è normale sia così perché le carte sul mercato sono poche. Come avete visto a 27k ce ne sono tre rimaste, a 28 ce ne sono quattro per cui cosa vuol dire? Nel momento in cui arrivano già cinque persone che comprano le prime carte a 26-27k poi il prezzo arriva subito a 30. Quindi qualora, questo è importante, qualora io vi dica comprate carte UCL di Pinco Pallino a 27 e lo comprate a 28 tant'è quanto ma lo comprate a 30 non va bene ok? Però è normale che sia così purtroppo è inevitabile non posso fare altrimenti. Per quanto riguarda invece altri investimenti legati sempre alla sfida di Falcao ci potrebbe essere quadrado. Adesso lasciate stare i prezzi qua di Foodbin che non sono affatto aggiornati. Il suo prezzo si aggirava intorno ai 9-10 mila fino a che c'era David Lewis sul mercato. Adesso è chiaramente crollato, ha tolto i 5 mila attuali, il suo prezzo sarà sicuramente intorno ai 7500. Andiamo a vedere il suo prezzo attuale. Trovo importante fare questi ragionamenti con voi, non tanto per farvi perdere tempo ma per capire la metodologia. Vediamo se sta sniperata riesco a farla, sicuramente no, perfetto. Come vedete è possibile anche sniperare quadrato. Dicevo che cerco di farvi questi ragionamenti per rendervi partecipi e farvi capire il metodo in cui bisogna ragionare quando si tratta di questa tipologia di compravendita. Come vedete il suo prezzo sotto gli 8 mila non c'è per cui direi che possiamo assolutamente abbandonare l'idea di utilizzare quadrato come investimento. Benissimo. L'unico metodo sicuro di questi investimenti è come sempre il team of the week. Allora, nella mattinata di oggi vi ho parlato di alcuni investimenti sul team of the week. Allora, anche qui c'era un discorso di prezzi o non prezzi. Giusti, troppo bassi, troppo alti, eccetera. Allora, considerate che questo post qua l'ho fatto circa alle 8 e tre quante della mattina e l'obiettivo era quello di acquistare le carte a partire dalle 9 nel momento in cui uscivano i premi della weekend league. Ora, il discorso è questo. I prezzi che io vi pubblico sono ipotesi di sniperate. Cosa vuol dire? Io non posso sapere a che prezzo saranno i giocatori nel momento in cui la gente spacchetta per la weekend league. Ok? Chiaro? Io mi baso sull'andamento dei prezzi generico delle carte IF di questi overall qua e vi propongo un prezzo che secondo me potrebbe essere allettante. Il discorso è che, a parte Portu e Butel, Alvaro, Alvaro e Markal non avevano questi prezzi effettivamente. Alvaro, Alvaro si comprava intorno ai 29-30 mila, Portu si riusciva a sniperare sotto i 21. Marsal non si comprava sotto i 16k, però diciamo che anche a 16k potrebbe essere un prezzo interessante. Per quanto riguarda invece l'altro di cui vi ho parlato, chi era? Chi era? Non me lo ricordo, ho la testa abbaccata, Butel. Butel si comprava facilmente sotto i 21k. Ora, qualcuno mi ha detto, ah sì ma questi prezzi sono assurdi, i prezzi sono assurdi però è anche vero cosa sto facendo. I prezzi non sono affatto assurdi perché io sono riuscito ad acquistare alcune di queste carte. Andiamo a vedere quello che è la mia lista di trasferimenti. Adesso vi parlerò anche di Bruno Fernandes e del perché li ho comprati. Ecco qua, come vedete Portu 20k, cioè 20k rispetto al prezzo che io vi ho indicato di 21 vuol dire che sono riuscito addirittura a prenderlo a meno. Poi mi sono preso, a parte quelli che ho detto, ecco alcuni Marsal, come vi ho detto non si trovavano sotto i 16, 16 e mezzo, ne ho presi 3. Per quanto riguarda altri investimenti, io mi sono preso alla fine dei Rokina e dei Veretù. Veretù sotto i 16 mila crediti, Rokina sotto i 15 mila crediti. Non guardate il prezzo attuale perché il prezzo attuale è 17 di Rokina e 18 e mezzo di Veretù. Stasera quando ci saranno altri spacchettamenti dovuti agli incontri principali che usciranno, standard non UEFA Champions League chiaramente, il prezzo scenderà momentaneamente. Così come è accaduto settimana scorsa con i vari Selke e i vari Mata, che vi ricordo sono questi giocatori qua, si vanno a sniperare i prezzi che vi ho indicato prima. Quindi assolutamente, overall 81-82 sono ottimi investimenti perché facilmente ibridabili. Uno è Serie A francese e l'altro è spagnolo della Liga. Per quanto riguarda altri giocatori, avete visto che io ho preso dei Bruno Fernandes. Bruno Fernandes che attenzione è disponibile in due versioni. La versione 85, che è un centrocapista centrale, la versione 86 che è un esterno di attacco. Perché Bruno Fernandes? Due motivi. Primo, anzi tre motivi interessanti. Primo è portoghese, del campionato portoghese, quindi facilmente ibridabile per qualsiasi sfida o qualsiasi squadra vogliate fare, perché alla fine è un giocatore abbastanza discreto come stats. Seconda cosa, è attualmente nel Team of the Week, quindi anche lui come Veretù e gli altri stasera durante gli spacchettamenti scenderà di prezzo momentaneamente per poi tornare ai prezzi attuali. Oltretutto, vi vorrei mostrare questo, la carta 86. Ah, c'era un quarto motivo che poi vi dirò. La carta overall 86 è attualmente ai prezzi minimi rispetto alla media degli overall 86 che si trovano su Foot. Che significa? Significa che rispetto all'86 che costa di meno come IF, ha un prezzo di circa 4-5k inferiore. Anzi, addirittura adesso andiamo a 7-8k inferiori. Quindi è importante perché questo significa che dal momento in cui dovesse uscire un SBC che richiede IF, così come la sfida delle Icon o altre sfide, flashback, Europa League eccetera, il suo prezzo non può fare altro che salire. Che sia durante questa settimana o che sia dal momento in cui esce dai pacchetti, non importa, il suo prezzo salirà. Per cui stasera andate ad acquistarlo sotto i 42k, così come ho fatto io. Guardate un po', addirittura ho fatto una sniperata assurda, 35k, chiaramente questa è una botta di culo, però comunque sia si sniperavano facile tra i 40 e i 42k. Quindi comprate queste carte qua che le rivendiamo nei prossimi giorni quando ve lo segnalo io. Generalmente sarà o fine settimana o quando escono dai pacchetti, quindi dal prossimo Team of the Week, mercoledì o giovedì prossimo. Ok? So di essermi dilungato, ma ci tenevo a spiegarvi questa cosa. Un'ultimissima cosa, vi segnalo i GECO che sto vendendo intorno ai 60 e mezzo, 61k. Come vi ho mostrato qua oggi, i vari, orca miseria, i vari GECO, eccoli qua, da vendere, di stare sopra i 61k. Quadrado, Allison e Condogbia, circa 5-6k di profitto a carta. Benissimo ragazzi, continuiamo così. E ultima cosa, ultimissima, lo prometto. Profitti di mercato, vediamo tra gli amici. Guardate un po', ho superato i 20 milioni di profitto ragazzi. Con questa possiamo chiudere. Ciao ragazzi, grazie per l'ascolto e ricordatevi di seguirmi sul profilo Food18Italia sui vari social, Foodtrading18Italia su Instagram, siamo quasi 7000, mi piacerebbe raggiungere i 7000 entro fine settimana, quindi aiutatemi. E in più, iscrivetevi al canale YouTube perché pubblico un sacco di contenuti giornalieri. Ciao ragazzi, grazie.